festival e le giornate di chiavari con un ospite d'eccezione vittorio storaro che io avevo definito direttore della fotografia vincitore di tre premi oscar apocalypse now l'ultimo imperatore reds ma lei subito mi ha corretto non mi definisca direttore della fotografia come l'ha definito è stato un errore fatto nel 1960 dagli americani perché volevano essere uguali ai registi per cui hanno detto noi siamo direttore fotografi sbagliando perché in film è come un'orchestra ci sono tanti diciamo autori e poi c'è il diciamo il conduttore oppure nel cinema c'è il diretto regista non possiamo essere due registi questo è già un errore poi fotografi è un fotografo no lui fa video chi è che fa la fotografia chi è che fa le fotografie di voi ecco loro sono l'autore della fotografia perché fotografia è un solo unico immagine mentre il cinema bisogna di una di un tempo come la letteratura e di un ritmo come la musica è un insieme di arti e già lei sta spiegando un po come farà questa sera a chiavari con che non lo so cosa accadrà stasera mi dico un po vendono tutti dalle sue labbra perché un personaggio ovviamente che siamo onorati di ospitare a chiave rispondere a ogni domanda intanto le chiedo qual è stato forse nella sua storia il film che le è piaciuto di più fare lei può scegliere un giorno della sua vita in cui è stata più 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 contenta quello che mi piace di più se lei sceglie di una settimana che il sabato è il più bel giorno però per arrivare a sabato lei deve vivere prima il lunedì il martedì mercoledì il giovedì e compagnia cioè non si può il più bel film che ho fatto nella mia vita è l'insieme di tutti i film fatti perché faccio il fotografo del cinema quindi questa cosa qui ma non posso estrarre ne uno perché arrivare a questo per arrivare a wonder will di mondiale se io avessi fatto un sogno un buongiorno con coppola e che l'avessi fatto con luca ronconi non ci sarei mai arrivato a farlo quindi non si può credo estrarre una parte quella è una parte ma fa parte di una di un insieme e se invece le chiedo il film che vorrebbe fare può avere un po di senso perché quello che stiamo preparando adesso con un grandissimo scrittore che vive qui a genova non lontano da qua che è carlo partigli e mi piacerebbe molto fare questa bis come io ho fatto governato per torucci la storia di piccolo piccolo e piccolo buddha poi sono stato due anni in iran all'epoca ci si poteva stare perché oggigiorno quando mi hanno invitato ad andare al nuovo feste non sono andato e ho fatto la storia di momento bambino è sempre dalla nascita ai 12 anni ecco fare la vita di gesù bambino dalla nascita fino ai 12 anni perché ci sono dei parti che i nostri benedetti signori che hanno fatto le le selezioni nel tempo nel dei centenari nei quattro vangeli schinonici che sono per carità da rispettare però che è successo della sua vita tra i tra i sei anni e i 12 anni e poi cosa ha fatto lui dopo da 10 anni fino ai 33 anni ai 30 anni adesso quello non lo tocchiamo ma questa parte di lui di questo bambino di da dai quattro ai sei anni e poi da sei anni ai 12 anni questa cosa che dicono il timore di erode che lo voleva a timore che lui essendo diciamo della stipide di di diciamo di davide potrebbe prendergli il trono potrebbero essere sono scappati da fuga in egitto e poi tornarlo quando quando è la diciamo l'angelo l'arcangelo capugliani dice di che l'erode è morta e non c'è più pericolo due parole se noi adesso abbiamo fatto tutto una parte con tutte le ricerche fatte in egitto eccetera di quello che è stato il vero percorso della sacra famiglia che non nessuno sa nulla e poi perché questi bambini poi lui e il suo cugino giovanni figlio della della cugina di maria elisabetta poi diventano così particolari tutte e due perché vanno a fare una scuola particolare dai dai 6 a 12 anni e nessuno ne parla una bella una bella scoperta la scoperta degli anni sconosciuti che non sono stati detti che non sono stati diciamo raccontati a noi le chiedo ancora due cose veloci la prima è come la tecnologia ha cambiato anche il suo lavoro cioè lei ha iniziato con vecchie macchine fotografiche cinepresa adesso si trova anche lei credo a che fare con di questi mezzi più tecnologici ma cambiato una cosa che l'essere umano ha sempre avuto bisogno di rappresentare diciamo un certo tipo di storia eccetera con lì con le immagini l'ha fatto nelle caverne poi c'è stato che non altro da vinci ha dipinto sul legno poi c'è stato chi caravaggio eccetera che hanno dipinto su tela e poi da questi c'è chi ha fatto diciamo gli affreschi michelangelo sul muro poi c'è stato qualcuno che ha inventato una emulsione fotografica su una immagine in bianco e nero poi l'hanno inventata in colori e poi l'hanno diventata in 3d e adesso stiamo sull'immagine elettronica qual è la differenza è la meccanica la materia ma quello che è importante è l'idea il concetto quindi io non ho cambiato il modo di pensare come illuminare una storia se uso diciamo le videocamere elettroniche se non quelle con la pellicola per chiudere due parole su chiavari appena arrivato così come impressione visiva e la conoscenza la sua conoscenza non la conoscenza devo dire di nassimiliano che è straordinario personaggio straordinario grazie grazie a voi comunque bella l'idea degli giornali di chiavari bellissima e devo dire che quando me l'ha raccontato mio figlio dico ma assolutamente mi fa molto piacere tant'è però vorrei proiettare un piccolo video io che è proprio storaro e i suoi maestri quali sono stati i miei maestri come fai a diventare un maestro e questa è la cosa di cui parleremo stasera grazie grazie mille